Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma non l'hanno fatta i botti 5? Però l'hanno io. E' più buono. Grazie a tutti. E' più figo quella di prima. Ma l'hai mandata la foto? La prima è la più bella. Ok. Quante due ore al tempo? E' più buono. E' più buono. Calma, con calma. si è rimesso il telefono e nasce fuori faccio io si è rimesso il telefono si è rimesso il telefono si è rimesso il telefono è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato si è rimesso il telefono è arrivato è che buona è che buona questa è arrivato 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 il soggetto è arrivato è arrivato fare tanto no bella bella bravo posso però è che lo metti esatto no come no si è fatto male qualcuno grida non ho capito chi è mi ha scattato tu ti ti appoggiate chi è ricaduto ma dove è Diego Diego c'è c'è ci scommettiamo ma poverino ci scommettiamo ci scommettiamo io ti continuo a dire ti sento vai 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 sai ma comunque dopo la faccia te lo metti bravo ma perché è quello di giovani ne ho capito per quello di giovani mi stai distraendo magari io no io io ho C'è un'anzanetto che è... Ma io voglio capire... Perchè tutti urlanti? Perché vi sticciano per la palla, vogliono la palla. Ricordi quando erano piccoline, dove stava la palla la stavano tutte e due. Vabbè adesso vedi, più o meno si... L'aspettano la palla, prima invece no. Poi sono andato in giro, non è che andavano in un'altra porta, sono andato in giro per il campo. Io mi ricordo quando ho fatto avuto il gol. Adesso? Una piccola. Ah tu? Stavo pensando di più calcio. Bravo, no. Questa è una piccola. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.